buongiorno a tutti e ben trovati alla rubrica domanda risponde oggi 12 ottobre parleremo delle relazioni interne tra corpo docente tra docenti e dirigenti scolastici e daremo risposta ad alcune domande che ci sono prevenute proprio in per questo argomento domanda numero 1 nei permessi dei tributi per motivi familiari o personali bisogna essere particolareggiati nel comunicare i motivi per evitare la mancata autorizzazione da parte del dirigente scolastico oppure è sufficiente una motivazione tecnicamente generica i permessi dei tributi e senza l'articolo 15 comma 2 del contratto collettivo nazionale lavoro scuola del 2006 2009 se comunicati in modo corretto non sono soggetti all'autorizzazione del dirigente scolastico il quale si limita solamente al controllo burocratico della comunicazione per quanto riguarda la motivazione dell'assenza che può anche essere auto certificata è sufficiente come scritto nella sentenza numero 378 2 del 2019 del giudice del tribunale del lavoro di velletti una motivazione generica che tuteli la riservatezza dunque dire sì che tipo di motivazione ma non entrare nei particolari perché tanto il diciamo l'assenza non deve essere controllata dal dirigente scolastico domanda numero 2 il dirigente scolastico può decidere di impedire a un docente di fare un intervento in collegio docenti inerente un punto un argomento all'ordine del giorno assolutamente no ogni intervento al collegio docenti relativo al singolo punto all'ordine del giorno deve favorire la più ampia partecipazione alla discussione esiste anche il diritto di replica in caso la discussione lo richieda un dirigente scolastico che impedisce a un docente di intervenire in collegio docenti su un punto all'ordine del giorno o non garantisce il diritto di replica commette un vero e proprio illecito domanda numero 3 il docente ha l'opportunità di fare inserire un punto all'ordine del giorno in un collegio dei docenti sicuramente possibile integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di nuovi punti sia per esigenza del dirigente scolastico che su richiesta di almeno un terzo dei componenti del collegio dei docenti e comunque prima di della convocazione del collegio stesso durante il collegio questo sarebbe anche possibile ma serve l'unanimità di tutto il collegio per poter integrare con un nuovo punto all'ordine del giorno la discussione collegiale speriamo che queste risposte alle domande che ci avete posto su questo specific argomento possono essere utili ai nostri telespettatori e vi rinviamo a mercoledì prossimo per un'altra puntata di a domanda risponde arrivederci a tutti